Dopo esserci occupati della Francia, vediamo adesso gli altri paesi della regione francese. Partendo dal Belgio, vedete il Belgio ha una geografia molto semplice e sostanzialmente pianeggiante. Confina a nord con paesi bassi e Germania, a est con Germania ed Ossemburgo, a ovest è bagnato dall'Oceano Atlantico e a sud confina con la Francia. Rispetto alla superficie che è piuttosto ridotta, vedete che ha una popolazione abbastanza consistente. Infatti vedete che la densità di popolazione è molto alta, è tra le più alte d'Europa, 367 abitanti per chilometro quadrato. La capitale è Bruxelles, la forma di governo è una monarchia costituzionale, i cattolici rappresentano il 60% della popolazione, c'è una buona percentuale di musulmani, il 4%, perché anche una parte di questa regione è francofona e quindi molti migranti del Nord Africa e del Centro Africa si recano in Belgio, un'alta percentuale di atei, circa il 31%, più altre religioni. Le lingue sono due, il francese e il fiammingo, poi gli spiegheremo meglio questa situazione. La moneta è l'euro perché il Belgio è uno dei paesi fondatori della comunità europea, quindi è entrato nell'eurozona di pieno diritto, oltre ad avere sul suo territorio gran parte delle istituzioni dell'Unione Europea. Il clima è un clima oceanico temperato, quindi l'influsso dell'Oceano Atlantico arriva quasi fin nell'entroterra. Vedete che la geografia fisica è abbastanza semplice, due fiumi, Schelda e Mosa, le pianure sono quella a nord, la pianura delle Fiandre, quelle centrali del Brabante e del Kempen, mentre nella zona meridionale c'è la modesta altura delle Ardenne che è confine naturale con la Germania e con la Francia. Quindi non ci sono molti elementi fisici da ricordare. È uno dei paesi con più alta densità di popolazione europea, il 10% della popolazione è scomposta da stranieri, che non solo sono immigrati africani, ma gran parte sono gli operatori, gli impiegati che lavorano nelle varie sedi dell'Unione Europea, che arrivano un po' da tutta Europa. Rispetto alle lingue, dicevamo, la regione delle Fiandre, quella settentrionale, nella regione delle Fiandre si parla il fiammingo, un antico dialetto simile all'olandese, più vicino alle lingue germaniche. Nella zona di Bruxelles, che pur si trova nelle Fiandre, e nella zona meridionale della Vallonia si parla francese. Perché a Bruxelles si parla francese? Perché la maggioranza della popolazione è di etnia vallona. e quindi si parla il francese, è la zona confinante con la Francia. Bruxelles, oltre a essere la capitale del Belgio, è anche di fatto la capitale di Europa, perché quando è nata l'Unione Europea, quando ancora non c'era stato l'allargamento ai paesi dell'est, Bruxelles si trovava proprio al centro geografico di questa grande regione. Con la sua area metropolitana ospita in tutto un milione di abitanti. Anversa si trova nelle Fiandre, sull'oceano Atlantico, è uno dei porti più grandi dell'Atlantico, e oltre a essere uno dei porti più attivi. La regione meridionale della Vallonia, dove si trova la città di Liegi, ospita grandi miniere di carbone, intensamente sfruttate fino al XX secolo. Adesso il carbone è vietato in Europa. Adesso queste miniere sono diventate dei grandi musei. Purtroppo in queste miniere ci andavano a lavorare molti italiani in cerca di lavoro e a volte perdevano la vita in disastrosi incidenti, come quello della miniera di Marsinelle. L'economia del Belgio. Vediamo prima l'economia in immagini. È già molto chiaro. Nel settore primario si producono molti fiori e ortaggi, i famosi cavolini di Bruxelles che tanto ci piacciono, nonostante il Belgio non abbia un territorio coltivabile molto ampio, si pratica un'agricoltura intensiva in serra e in acquacoltura, tanto da esportare le ortaggi anche all'estero. Negli appezzamenti di terreno, che sono piuttosto infertili, perché battuti dai venti oceanici, si coltiva l'orzo, da cui però si ricavano delle ottime birre, oltre a servire da pascolo per l'allevamento bovino. Nel settore secondario, il sottosuolo della Vallonia, ricco di carbone, ha permesso negli anni 70 e 80 lo sviluppo dell'industria assertiva e metallurgica. Oggi invece l'80% dell'energia proviene dalle centrali nucleari. È molto sviluppata l'industria del taglio dei diamanti. I diamanti in realtà arrivano dal Congo, un'ex colonia belga, di cui il Belgio ha mantenuto lo sfruttamento minerario. Poi vengono tagliati in Belgio e commercializzati. Nel terziario è molto sviluppato il settore del commercio, ricordiamo il porto di Anversa, nonché il settore bancario e finanziario, visto che si trovano tutte le istituzioni europee, praticamente in Belgio, è molto sviluppato. Grandi porti, moderne infrastrutture, vie di comunicazione ferroviaria e fluviale, molto sviluppati. Passiamo adesso al secondo paese, cioè i Paesi Bassi. Anche qui abbiamo una geografia molto semplice, è un paese pianeggiante, con un tipo particolare di pianura, che più che una pianura è una depressione, perché gran parte del territorio dei Paesi Bassi si trova sotto il livello del mare. Andiamo a vedere con chi confina, nord col mare del nord, est con la Germania, ovest col mare del nord, al sud con il Belgio. Anche qui, rispetto alla superficie, il numero degli abitanti è abbastanza elevato, per cui troviamo nei Paesi Bassi la densità di popolazione più alta di tutta Europa, 407 abitanti per chilometro quadrato. In effetti ci sono delle grandi città, come Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Laia, Utrecht, eccetera, eccetera. La capitale, di fatto, è Amsterdam, anche se la sede del governo è Laia, che si trova qui, sul Oceano Atlantico, da dove partivano le compagnie per gli indi o le andesi nel 1700, e quindi era la città che ospitava tutte le istituzioni. Tradizionalmente il palazzo del governo è rimasto là, ma la capitale è Amsterdam. I cattolici sono solo il 22%, perché in questa regione ci sono molti protestanti, circa il 20%, una alta percentuale di musulmani, che si attesta vicino al 6%, ma gli atei sono la maggioranza, il 42%. La lingua è l'olandese, che è una lingua simile al tedesco, comunque una lingua germanica. Anche qui la moneta è l'euro, anche i Paesi Bassi sono tre paesi fondatori della comunità economica europea. Anche qui troviamo un clima oceanico e temperato. L'unico elemento da ricordare del territorio è l'arcipelago delle isole Frisone, nel nord-ovest del paese. Per il resto, vedete, questo è il territorio originario dei Paesi Bassi. Poi, nel corso dei secoli, a partire dal Medioevo, è stata recuperata diversa terra al mare, attraverso un'attività di polderizzazione. Andiamo a vedere cosa significa. Polder vuol dire terra prosciugata. Come funziona un polder? Si rinchiude un braccio di mare con una diga artificiale, dopodiché si mettono in funzione delle pompe idrovore e si prosciuga l'acqua, lasciando dei canali navigabili che servono come via di comunicazione. Anticamente venivano utilizzati i mulini a vento come pompe idrovore. Adesso si usano le pompe idrovore elettroniche. Ecco perché in Olanda ci sono tutti questi mulini. Questo procedimento è cominciato dal Medioevo strappando al mare fino a 5.000 km2. Ovviamente, vedete che queste pianure sono al di sotto del livello del mare, quindi, di fatti, sono delle depressioni. La popolazione dell'Olanda è molto giovane perché c'è l'età media intorno ai 42 anni, più bassa di quella europea, e c'è un'infertilità vicino ai due figli per donna. Perché avviene questo? Perché il governo aiuta le giovani coppie a mettere su famiglia e c'è una massiccia immigrazione, soprattutto dall'Indonesia, che è un ex colonio olandese, ma anche dalla Turchia, dall'India e dal Nord Africa. La lingua parlata è il neerlandese o olandese, che è una lingua germanica molto simile al tedesco. Ma siccome si parla solo in Olanda, quindi più o meno tutti gli olandesi conoscono anche l'inglese e il tedesco. Vedete che è il paese più densamente abitato d'Europa, quasi 495 abitanti per km2. Questi sono dati del 2016, adesso è un po' diminuito, comunque resta il primo paese più densamente popolato. E vedete che la popolazione, in questo grafico, dal 2011 al 2016, è in costante crescita. Grazie all'intensa urbanizzazione, alla massiccia presenza di città, nei Paesi Bassi si è formato il cosiddetto Rangstad o città-anello. Vedete che alcune grandi città, come Amsterdam, Utrecht, Rotterdam e Laia, attraverso una rete di centri più piccoli, si sono quasi unite a formare un anello. Questo anello è collegato da un efficientissimo trasporto, sistema di trasporto, per trasferire sia merci che passeggeri, autostrade, strade, ferrovie, aeroporti, canali navigabili, facendo di questo agglomerato un'unica città a forma appunto di anello. Per cui le città olandesi hanno ognuno assunto un suo ruolo. Amsterdam è la capitale culturale e storica dei Paesi Bassi, viene detto la Venezia del Nord perché sorge su tanti isolotti, ospita il Museo Van Gogh, la Casa di Anna Frank, il Museo di Rembrandt, e stimola molte attività culturali e turistiche. Milioni di visitatori visitano questa città ogni anno. Rotterdam invece è il centro del commercio, vedete questo grafico, ci parla delle movimentazioni merci nei diversi porti europei. Vedete che Rotterdam ha una movimentazione di merci del tutto spropositata rispetto agli altri porti europei. Così come Laia è la sede amministrativa, la sede degli uffici ha Laia, tra l'altro ha sede la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite che giudica i crimini contro l'umanità. Mentre Utrecht è una città universitaria, ospita 30.000 studenti a un'antichissima università. Quindi in questa grande cittanella ogni città si è specializzata in un settore. L'economia dei Paesi Bassi, vediamo la nostra economia per immagini, il settore primario molto sviluppato la coltivazione dei fiori in bulbo, i famosi tulipani, nonostante non abbia terreni coltivabili si usano selezione genetica, pesticidi e concimi chimici per cui i Paesi Bassi sono il primo esportatore di fiori da bulbo al mondo. C'è un buon allevamento per cui si producono formaggi, latte e derivati. Settore secondario, un'antica tradizione nel taglio dei diamanti provenienti dal Sudafrica, ex colonia olandese, ma ha molto sviluppato il settore chimico, petrochimico, agroalimentare ed elettronico. Buone risorse di gas naturale e petrolio scoperte recentemente nel Mar Nero, ma è molto sviluppata l'energia per la volta che ha visto l'antica tradizione dei munini a vento in Olanda. Nel settore terziario, ovviamente le infrastrutture, i trasporti, ma anche il commercio, ricordiamo il Porto di Rotterdam, e la grande distribuzione, il turismo culturale e naturalistico. Andiamo a vedere il più piccolo degli stati della regione francese, il Principato di Monaco. Vedete, è una città poco più di due chilometri quadrati di estensione per 34.000 abitanti. La forma di governo è una monarchia costituzionale, la capitale è Monaco, i carlottolici sono il 90%, altri 10%. La lingua ufficiale è il francese, ma si parla anche l'italiano. La moneta e l'euro, nonostante il Principato di Monaco, non faccia parte dell'Unione Europea. L'economia è basata soprattutto sul turismo di lusso e sul reddito di persone molto ricche che abitano questo paese, grandi calciatori, grandi piloti di automobilismo. Da secoli è sotto il dominio della famiglia Grimaldi. Lussemburgo, sostanzialmente pianeggiante, se si eccettua a qualche altura nella parte settenzionale dove arrivano le Ardenne, confina il nord col Belgio, est con la Germania, a ovest ancora col Belgio, al sud con la Francia, 223 abitanti per chilometro quadrato. La regione cattolica è quella predominante, anche qui abbiamo l'euro, e il Lussemburgo è uno dei paesi fondatori della CE. Il clima è continentale, perché non ha l'influenza dell'oceano in questo caso, e nelle vallate sono sviluppate agricoltura e allevamento. È un antichissimo Gran Ducato fondato all'epoca di Carlo Magno, poi conteso fra Francia e Spagna e impero germanico, indipendente dal 1815. L'economia si basa per l'80% sul settore finanziario. Ci sono oltre 200 banche lussemburghesi dove investono grandi capitali da tutto il mondo. infatti i cittadini del Lussemburgo hanno il reddito pro capite tra i più alti al mondo quasi 78 mila dollari pro capite. Con questa slide si conclude la seconda parte della regione francese. Arrivederci. grazie. Grazie.